è coccolona dalila è vero che coccolona è bellissima sta cucciola una lupetta di taglia media che vive per la strada in pericolo tutti i giorni e cerca una famiglia affettuosa il responsabile si non si avvicina a paura per fare un bel giro libera vai vai adesso ti metti in posa monellina hai visto hai paura a scendere vai col fratellino tutta sporca questa cucciola vieni questa monellina questa monellina è micidiale ieri ha mangiato pochia padella di pasta perché lui se n'era andare quando riusciva a trovarlo il doppio della sorella dove vai dolcissimo vuole sempre le coccole è bella proprio carina spero veramente che trovi una famiglia perché sennò fa grande qui e cominceranno a protestare poi diventerà capito il cane che insegue le macchine perché giustamente senza invece questa in una famiglia portata al guinzaglio nel parco bellissima coccolona ciao da lì là ciao